Ciao a tutti, io sono Laura e sono la mamma di due piccoli alunni del Polo 1 Gianserio Strafela di Copertino. Oggi voglio portarvi con me in un mondo fatto di cetrionsoli, di terribili incubi trogologobli, di barattoli di sogni, sogni d'oro, sogni belli che rendono felici, un mondo in cui potete trovare lo sciroppio che libera gioiosi petocchi. Vi porto in un mondo popolato da orridi giganti, creature crudeli, malvagie, capaci di azioni veramente terribili. Vi porto a conoscere Sofia e il suo enorme amico che si presenta con queste parole. Io è un diverso, io è un gentile gigante confusionato, io è il solo gentile gigante confusionato in tutto il paese dei giganti. Io è il grande gigante gentile, io è il GGG. Sofia e il suo amico GGG vivono delle avventure strepitose, cercano di scappare da quel mondo brutale e selvaggio che è il paese dei giganti per riuscire a tornare nel mondo degli uomini. Eppure anche nel mondo degli uomini, popoli, come li chiama il GGG, di certo cattiveria e brutalità non mancano. Tu non dimentica, l'interruppe il GGG, che tra i popoli c'è tanta gente che scompare di continuo anche senza che i giganti se li ciuccia. I popolani si fa fuori l'un l'altro molto più spesso di quanto i giganti li devora. Ma gli uomini non si mangiano reciprocamente, disse Sofia. Anche i giganti non si mangia tra loro, disse il GGG e l'oro nemmeno si uccide. I giganti non sarà educati ma non si uccide tra loro. E neanche i cocodrindilli si uccide l'un l'altro e i gattini non uccide gli altri gattini. Però i topi sì. Sì, ma lascia stare i loro concugini. I popoli della terra e i soli animali che uccide i suoi concugini. E i serpenti velenosi non si uccidono tra loro? Chiese Sofia. cercava disperatamente di trovare qualche altro essere che si comportasse male quanto l'uomo. I serpenti verminosi non si uccide tra loro, disse il GGG e neanche gli animali più feroci come le trigri e i rinocerotti. Nessuno di loro uccide il suo concugino. «Ha tu mai pensato in questo?» Sofia non rispose. «Io non riesce a capire i popolani», riprese il GGG. «Tu, per esempio, è una popolina e dice che i giganti è abominoso e mostrevole perché mangia la gente. Chiaro o scuro?» «Ciaro?» «Ma i popolani si imbudella tutto il tempo tra loro, si sparapacchia coi fucili e va sull'aeropalmi per tirarsi bombe sulla testa ogni settimana. I popolani uccide per tutto il tempo gli altri popolani». Aveva ragione. Era evidente che aveva ragione. E Sofia lo sapeva. Stava cominciando a chiedersi se davvero gli uomini fossero migliori dei giganti.